ciao come stai? ciao scusa l'attesa stiamo col botto grazie della sub intanto io stavo sperando di riuscire no vabbè la tengo non lo so come tenere questa magari non la metto a video che mi dà un po fastidio così allora benvenuta benvenuta come stai? tutto bene sei in modalità seria possiamo dirlo? perché non hai le orecchiette è vero ma soprattutto notavo che da te mi ha cambiato il nome ah ok sai perché iniziano subito le cose strane perché io ho un autotraduttore del browser allora fammi ricapitolare perché qua stia già degenerando allora Sara Girelli innanzitutto io l'ho conosciuta perché è una streamer andatela a seguire sul suo canale non vi so pronunciare bene il suo nome quindi insegnami subito come si pronuncia Sara Squirrel Squared ma capisco che sia problematica Sara Squirrel Squared Squared esatto sì sarebbe squirre giusto Squirrel che è ora di squirre ho superato il test perché tu hai vissuto in Inghilterra giusto? sì 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 12 anni ok allora andatela a seguire e poi comunque appunto io ti seguivo ti seguo ci seguiamo e poi ho scoperto che tu hai fatto un film come una delle protagoniste di questo film che si chiama Coppia Aperta Quasi Spalancata aspetta che mi tengo gli appunti di Federica Di Giacomo ed è un film che è tratto da una commedia scritta da Dario Fo e Franca Rame correggimi se dico delle cavolate perché io ne dico tanto vai e in questo film adesso io non conosco benissimo la commedia no? si parla di una coppia con tutti i suoi problemi e forse già lì si parla di poliamore oppure è una trasformazione di questo film il fatto di parlare di poliamore? fondamentalmente nasce come scelta di far vedere che cosa è uscito dalla PIS teatrale che è una PIS comunque dell'83 quindi con le sue belle problematiche come si è evoluta la cosa nel 2024 quello che vediamo all'inizio fondamentalmente è questo triangolo non amoroso ma la Chiara Francine che è la protagonista con il suo compagno di palco che è l'attore Alessandro Federico con cui è ormai da quattro anni che porta in giro questo pezzo teatrale in tutti i teatri d'Italia da lì proprio nasce questa cosa insieme al compagno vero che è Frederick che si vede anche nel film iniziano a elaborare questo progetto di dire cerchiamo di vedere dove ha portato questa idea della coppia aperta è ancora aperta? è cambiata? ok quindi il film lo spiego per chi non l'ha visto a parte che a me è piaciuto l'ho trovato sia divertente che istruttivo interessante e soprattutto non dà in realtà una risposta cioè non ti mette in bocca quello che è la verità cioè ti fa vedere delle cose questo è molto difficile da fare secondo me ed è molto intelligente da fare perché nessuno vuole che sentirsi dire la verità dagli altri ci vuole sempre arrivare da solo secondo me e poi il film è anche molto meta cinematografico meta teatro, meta tutto perché appunto come hai detto tu nasce dagli spettacoli teatrali poi probabilmente sarà nata l'idea di fare il film e nel film c'è una parte quasi documentaristica in cui appunto tu di cui tu fai parte perché si parla abbondantemente nel film si parla quasi diciamo sei quasi al 40-30% del film ci sei tu e la tua famiglia e si parla della tua famiglia che è una famiglia poliamorosa perché tu hai due mariti si può dire due mariti? è giusto? oh no davvero maledetta te hai due mariti e una figlia giusto? fine, hai due cani esatto che perché poi anche gli animali quando poi vengono a mancare si capisce quanto in realtà facciano parte della famiglia anche io ho avuto degli animali allora e qui ci sono tantissime cose di cui voglio parlare però e poi dopo voglio parlare anche magari sul finale di una parte un po' più più così spensierata che è la tua partecipazione come outsider posso dire a Venezia e grazie per il follow Zappo Bulli ciao Zappo grande ringrazio anche Mirko che ha rinnovato l'abbonamento scusatemi se ho scammato qualcosa e adesso poi cerco di riprenderle fila cos'è che stavo dicendo? cazzarola mi sono rimbambito ah sì outsider esatto tu sei andata a Venezia io ho sentito due o tre cose al volo ho detto wow ho capito che ti sei divertita un botto e che è stato bello e quindi poi ci racconterei anche quello la prima cosa che ti chiedo è che cos'è? perché penso a chi clicca magari il video quando lo caricherò oppure chi è qua che cos'è il poliamore alla fine cioè dillo tu perché io non lo so in realtà bene grazie Alca fondamentalmente il poliamore è una delle tante forme di quelle che vengono chiamate le non monogamie etiche cioè qualsiasi cosa che va al di là della mera coppia diventa poi una non monogamia perché etica? perché fondamentalmente è la parte importante di tutto quello che sono le relazioni con più persone cioè siamo talmente abituati ormai a sentire persone che hanno un sacco di amanti lui ha gli amanti lei ha gli amanti ma rimangono coppia e di base la coppia ma non se lo dicono su tutto segreto eccetera lì è proprio dove va a mancare l'eticità della cosa e la comunicazione tutto quello che sono le non monogamie etiche sono queste forme alternative di affettività di relazioni di forme relazionali che non sono vincolate necessariamente alla coppia di base ci sono non so la coppia aperta è una di queste noi siamo sia io il maritozzo e siamo voi gli amorosi sì 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 no scusa mi è arrivata una bomba di 5 sub devo ringraziare per forza italianice grazie mille per le 5 sub allora io ti chiedo perché tu io ho già anticipato che tu sei una persona estremamente intelligente anche se appunto lo dico proprio io dico le cose fuori dai denti uno quando ti guarda non è che pensa ma lo stesso vale per me tanti vengono da me e dico questo ne capisci di cina col cappellino cioè quindi mi piacerebbe siccome sei appunto stai descrivendo la cosa in modo molto però mi piacerebbe che fosse anche più personale più più sciolta la cosa nel senso che vai uno vorrei capire come come è nata in te questa cosa qua cioè nel senso io sono ti dico come come ho vissuto io ho sempre vissuto pensando che esistesse un'anima gemella e e poi e quando ero ragazzino me la immaginavo anche non me la immaginavo però ecco questo è interessante come me quindi coi pantaloni da skate che andavo in skate cioè femmina perché sono sono credo non so per quanto eterosessuale però me la immaginavo tipo una versione di me di me parliamo di quando avevo 14 anni me la immaginavo una skater come me però al femminile quindi praticamente quasi un amico no? questo secondo me ha a che fare un po' con questo discorso sì è stata più o meno così anche per me fino fondamentalmente all'età delle medie primi anni delle superiori poi inizi le classiche prime storie quindi il principe azzurro oppure tu ho avuto anche dei principi poco azzurri però se se ne sono scappati per vedere colore a cavallo però sai poi inizi a dire ma se io sto con questa persona però c'ho un crash enorme per questo ma perché provo altri sentimenti finché fondamentalmente io non avevo poi parliamo veramente di tanti anni fa cioè tipo sì sì parliamo degli anni 90 fine anni 90 primi 2000 quindi che ci stiamo a dire a quel tempo non c'era fondamentalmente questa informazione che c'è adesso non c'erano neanche i nomi non c'era terminologia non c'era consapevolezza per cui io fondamentalmente l'unica cosa che sapevo era che non ero monogama tant'è che io ho 18 anni però scusami visto il discorso che ci hai tenuto a sottolineare mi sembra di capire che molti non sono monogami visto che vanno tutti a scopazzare in giro e non lo dicono oppure hanno triple relazioni quindi mi sembra che se poi andiamo a guardare i dati sono di più le persone che appunto perché poi essere monogami o comunque innamorati di una persona significa proprio non avere una pulsione amorosa verso nessun altro cosa che mi sembra veramente molto improbabile a meno di non essere sì non è una coppia aperta fondamentalmente dove dice ok io amo solo te poi però in comune accordo decidiamo che ognuno di noi va a mettere mani però stai parlando di una stai parlando solo della sfera sessuale esatto dal punto di vista amoroso romantico fondamentalmente se tu ti innamori di un'altra persona e questa è la tua amante dei provi effettivamente sentimenti tu non lo sei perdonami grazie mille per il rinnovo Gioba e niente fantastico che sei qua perché poi è un bel tema o magari se vuoi andare anche da Gioba che lì però lì trovi veramente gente no volevo chiederti tu la stai leggendo la chat se vuoi rispondere anche direttamente sì la vedo la vedo no anzi rispondi anche direttamente te lo do io come come ordine patriarcale in quanto maschio no in quanto donna mi fosso minchio esatto comunque mi faceva ridere cioè mi faceva ridere ma è la verità come dici italiana è socialmente monogami praticamente poliamorosi tutti cioè o quasi c'è questa ipocrisia del si sa che magari soprattutto in determinati ambienti si sa che c'è la coppia che si fa vedere fuori alla domenica mattina andare a messa che è quella ufficiale e poi si sa che lui in realtà ha la stessa amante da vent'anni perché bisogna mantenere l'apparenza perché l'apparenza sociale serve esatto perché fondamentalmente c'è ancora questa cosa del bisogno essere monogami cioè la monogamia è il default con cui si nasce quello non lo si può mettere in discussione come per esempio c'è anche questa pressione molto più verso le donne ma c'è anche negli uomini che se arrivi a una certa età e non ti sei sposato e non hai messo su famiglia tutta la tua sfera sociale inizia a martellarti con questo pressing allora hai figli allora non hai ancora trovato una ragazza un ragazzo e così via come se come se fosse appunto aiuto abbiamo una normale nella nostra nella nostra famiglia esatto e di fatto una delle non monogamie fondamentalmente è anche che io adoro non sono in grado io personalmente ma è una cosa che veramente stimo tantissimo sono l'anarchia relazionale dove non hai questo concetto di classificazione di gerarchia sotto ci sono gli amici e poi sopra c'è la ragazza e il ragazzo la relazione amorosa è tutto su tant'è che a volte gli amici litigano con i fidanzati e le fidanzate perché a me è successo perché l'amico è un amicizia può essere un amicizia molto importante quindi un affetto vero e proprio un amore vero e proprio che va in conflitto con l'amore per la compagna con cui hai rapporti diciamo più intimi e quindi è interessante perché ci viene chiesto socialmente di creare una gerarchia quindi il cane magari è l'ultimo oppure prima degli amici magari il cane prima degli amici ma dopo la fidanzata o la moglie o il marito poi dipende ci saranno varie sfumature no? cioè tipo in Cina il cane non credo che sia molto in alto come stappa Cooper non andare non andare ma in Cina è fondamentalmente questo questo set mentale che uno deve fare questi step e a un certo punto devi prendere le persone e iniziare a mettere giù dai gradini personalmente io quando ho iniziato a avere intorno ai 17-18 anni ho iniziato a capire che per me questa cosa non poteva funzionare tant'è che quando mi sono messa con polemica gratuita ma che è il mio tra virgolette scusami è quello più alto o quello più basso? quello più alto ok non è body shaming non è body shaming non è body shaming siamo già shaming di notte ma non è body shaming quando io mi sono messa con lui non avevo le idee chiare come ce l'ho adesso perché ovviamente c'è stato un certo percorso Uruk invece è quello basso mi sembra di capire è quello basso che potete tranquillamente non è basso in realtà è più non volevo dire che è basso non volevo dire chiedo scusa lo dico io semplicemente perché nel film li ho visti uno è leggermente più leggermente mi sono stato elegante leggermente più alto allora lo dico io Uruk ok io siamo in anerotica e poi c'è Daniele che è per cui vedi che essere più basso in realtà ti rende ancora più più vicina e quindi poi dopo io parlerò della gelosia chiaramente ovvio dobbiamo andare là però è partita molto chiara la relazione che è una cosa che mi ha chiuso parecchie porte in faccia io ho detto a quello alto se vuoi iniziare a uscire con me gli diamo dei nomi gli diamo dei nomi normali Daniele è quello alto Efrem è Uruk Efrem ok non c'è ancora polemica quello alto perché ha le prove con la banda quindi niente nomi normali Uruk Efrem esatto io le ho le ho detto se vuoi uscire con me sappi che io sono uno bisex e secondo scusa 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 posso provare ma sbaglio però allo stesso tempo probabilmente sono la persona a cui non serve tutta questa codifica perché per me uno può fare il cazzo che vuole rispettando diciamo l'altro ok il compagno per cui io ho pensato che questi codici tutte queste cose servono più a chi non li capisce e a chi è proprio duro di testa perché per me è semplicemente però forse questo è uno stato ancora più più elevato cioè servono fondamentalmente per facilitare la comunicazione quando vuoi arrivare dito al punto per non dover rispiegare guarda che a me piacciono sia gli uomini anzi è vero che scusa mi senti interrompo se una cosa non ha un nome non esiste quasi quindi forse ha bisogno di avercelo però io facevo ironia sul fatto che a me non frega nulla cioè per me uno può può amare chi vuole penso penso anche a persone che magari nascono con diversi con diversità ai genitali e cose particolarissime allora loro chi dovrebbero essere da chi dovrebbero essere amati mi chiedo eh no cioè nel senso non hanno diritto di essere amati in quanto non sono perfettamente definibili come come un sesso o un altro quindi cioè è veramente una cosa terribile da dire se ci pensi no? sì 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 infatti c'è tutto il discorso di intersex e non binary comunque tu hai buttato la bomba sei ho buttato la bomba io sono allora ai tempi mi definivo bisessuale perché negli anni nei primi anni era quello fondamentalmente c'era il lgb lesbia lesbiche gay e bisessuali punto ancora il fine la formula non era neanche entrata quando ho fatto coming out io adesso mi definisco con un'altra cosa te la butto lì tanto sui termini così pan sessuale cioè che fondamentalmente io mi innamoro fa il pane sì sì ti innamori della persona non del genere cioè io mi innamoro della persona ah ok ok questa l'avevo sentita ed è una cosa che davvero non io personalmente perché poi appunto si parla di come ognuno vive queste cose non riuscirei mai a a capire cioè non a capire a sentire che è diverso capisci ma ci sta ci sta ma il fatto è proprio il fatto di accettare invece ciò che sente un altro che è la difficoltà del genere umano non è tanto capire perché capire io lo capisco benissimo non lo sento e quindi secondo me quello che le persone dovrebbero fare è dire ah ok tu senti una cosa diversa che è come guardare un film quando tu guardi un film al di là delle competenze che può avere uno e fare una roba più tecnica i sentimenti arrivano in modo diverso le emozioni quindi è questa cosa che le persone non capiscono applicata all'amore e al sesso diciamo comunque sei pansessuale o detta la vecchia maniera bisessuale bisessuale ai tempi sì per cui è partita una cosa molto alla mia maniera senza i termini che ci sono ora ma molto etica perché io sono stata chiara oh vuoi uscire con me questo è pane al pane vino al vino puoi anche dirmi di no e mandarmi a fanculo a me va bene cosa che è successa più volte nella mia vita per questa cosa tanto a fanculo ti ci mandano comunque prima o poi esatto quindi quindi va bene così tanto vale farlo nei miei termini ed è stata un percorso per entrambi io ho avuto altre storie con altre ragazze lui per tantissimo quindi era più era più una cosa di libertà cioè di accoppia aperta come avevamo detto prima o proprio anche di sentimento cioè mi posso proprio innamorare a più livelli perché poi l'innamoramento non è una roba che è switch si on off cioè può essere un pezzettino con un pezzettino in più come essere un pochino un po' tanto gigantesco e che perdi il cervello no quindi no per me non è mai stato in realtà un discorso sessuale nel senso che non ho mai cercato io ti parlo un po' così quindi no no parla proprio come se fossi in un porto la scopata della notte ecco io sono così quindi no no va benissimo i miei lo sanno che potrei andare a lavorare al porto cioè io la scopata di una notte non l'ho mai cercata cercavo la relazione se una una donna un uomo mi prendeva soprattutto di testa cioè mi piaci mi innamoro di te allora cerco la relazione se no no ma è molto demonizzato anche adesso poi dopo ritorniamo al film come ci sei arrivata però mi interessa un po' fare il quadro di quello che pensi è molto demonizzato anche il fatto di cercare puramente sesso è molto demonizzato cioè come se fosse un mostro esatto ed è sbagliatissimo perché alla fine se le persone coinvolte sono tutte consensuali e a conoscenza e tutti diciamo riusciremo a finire senza dire la parola chiesa in questa non credo no no non ce la faremo no sì comunque sono d'accordo cioè ognuno deve essere libero di fare quello che vuole cioè per me era un discorso di amore questo non significa che sia sbagliato le persone che dicono guarda noi andiamo a cercare solo sesso ma va benissimo cioè ma goditela il problema è proprio quello abbiamo avuto troppa ingerenza della chiesa su questo argomento del il sesso è una cosa tabù guai a parlarne cioè c'è già il diavolo che sta venendo su a prendermi e ormai ce l'abbiamo dentro anche diciamo drag me to hell esatto dai come il film no l'hai visto perché un po' no non l'hai visto drag me to hell io adesso dirò una cosa che cercherò sì dovresti usarmi come test su un corso per neofiti beh però tu un pochino di horror lo guardi dai no mi hai detto scusa mi hai parlato quando ti ho conosciuto mi hai parlato di event horizon sì ma perché quello è considerato horror beh sì è fantascienza horror sì sì è quel genere sì quello sì quello con i zombie gli apocalisse quel genere event horizon sì va bene torniamo torniamo no poi comunque era per divagare sì un po' sì sì ma sta già venendo il papa qua rimetta a posto la candela ma io ti sento ah sì una roba che capita adesso è tornato è una roba che capita scusate non so se vi siete persi ma non penso che tanto dico solo cagate quindi no dicevo di cosa stavamo parlando perdona oggi sono stanchissima quindi vado proprio così no volevo ritornare al discorso di come poi tu sei arrivata a questo stato di poliamore con due mariti che poi chi lo dice che questo è lo stato definitivo no è un po' questo il senso io cioè non c'è una cosa definitiva nel senso che se Uruk o polemica vogliono cercare altre donne devi comprare una casa più grande scusa però mi viene in mente un tema molto interessante che la famiglia è concepita in realtà come un business cioè come un'operazione economica perché in realtà vivere da soli in una casa e pagare le spese della casa da soli è difficilissimo per chiaramente non per Fedez e la Ferragni ma per noi per noi sì e questo accadeva anche nell'ottocento e anche nel qualsiasi epoca cioè l'unione la comunità familiare poi anche di villaggio ha una valenza di protezione di guadagno di insomma fare squadra è una è una cosa opportunistica fondamentalmente quindi anche la famiglia di per sé ha questo tema dell'opportunismo c'è anche nel in chi sceglie il percorso delle non delle non monogamie c'è anche una buona fetta di persone che lo fa come rivolta al capitalismo Dani per esempio quando si è avvicinato al discorso poliamore è stata una delle sue delle sue scelte lui molto politico molto attento a queste cose è veramente dentro nel neanche nel discorso economico eccetera non mi è chiaro perché sono un po' neofita come il poliamore può combattere il capitalismo molto te la metto breve poi se qualcuno vuole magari mando link in privato cose così perché è molto più complessa io la faccio molto semplice fondamentalmente la famiglia come la intendiamo adesso la moglie il marito e i figli sono nati per una questione meramente economica di eredità il marito e anche il discorso della dota era tutto un discorso legato ai soldi era un contratto dove l'amore non c'entrava nulla era un discorso di le due famiglie si mettono d'accordo per mantenere un discorso di edità infatti sceglievano sempre i genitori chi si sposava quello o gli uomini per tanto tempo nella storia le donne hanno avuto nulla c'è un discorso diciamo di imprinting dentro nella mera nel mero denaro in quello che è il matrimonio che abbiamo adesso fun fact fino a un certo periodo della storia ai preti era assolutamente vietato avvicinarsi o partecipare ai matrimoni proprio perché veniva era una cosa fondamentalmente completamente scollegata dalla chiesa non c'entrava la fede non c'entrava niente era solo legato ai soldi per cui santa romana chiesa grazie per i followers ok quindi no un'ultima roba poi parliamo magari un po' del film giusto intanto vi invito a fare delle domande se la volete insomma mi piacerebbe proprio che anche appunto rispondessi direttamente interrompimi rispondi pure se arriva qualcosa la prima la prima cosa che che probabilmente una persona ti chiede è la gelosia no come fai a dare a me vengono in mente quelli che hanno due figli no cioè come fai a amare due figli cioè io ne ho uno e mi chiedo come si fa amare due figli nello stesso modo no o comunque perché poi perché li devi amare nello stesso modo c'è scritto è una regola è un'ingiustizia è fondamentalmente questa cosa dove si deve dare una anche qua un discorso una quantità una quantità di amore noi non abbiamo una quantità finita di amore se io amo Daniele non è che amando Efrem tolgo dell'amore al primo esatto poi c'è anche anche il mio terzo figlio cioè fondamentalmente lui è il tuo terzo figlio ormai c'è questa cosa di dire ah però se tu vai con questa nuova persona con il mio caso con Efrem allora perché o Daniele non ti dà abbastanza amore o non ti manca qualche cosa o non lo ami abbastanza no perché non è una cosa finita cioè non tolgo uno sembra quasi di parlare di qualcosa di molto legato al lavoro cioè non performi nel modo giusto non funziona cioè è come se fossero dei ruoli in azienda no aggiungo questo elemento perché da soli in due non ce la facciamo oppure cose di questo tipo mentre invece in teoria l'amore è qualcosa di intanto non non è neanche in qualche maniera dimostrabile cioè nel senso che non è una cosa che la metti su una bilancia la pesi non mi viene in mente un'esperienza mia personale non spoilero le persone però mi è capitato spesso che la persona con cui stavo mi desse tantissimo amore che non volevo e quello che volevo non me lo dava mai cioè mi dava delle cose che a me non interessavano ma che interessavano a lei e lei diceva ma come io faccio questo 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 tutte cose proprio anzi alcune mi davano pure fastidio ed erano considerate un sacrificarsi e mentre invece quello che mi quello che mi mi faceva sentire amato non mi veniva mai dato quindi è veramente impossibile pensare che questa cosa sia calcolabile che sia non è calcolabile ma poi ognuno di noi ama in modo diverso per cui un po' diciamolo chiaro va a culo trovare la persona giusta perché è quello non ce n'è di storia cioè va anche un po' a culo due va tanto a comunicazione cioè io parlo con te ti faccio sapere ti faccio sapere quelle che sono i miei bisogni ti faccio sapere qual è il mio modo di amare quali sono i miei modi per esempio dicevo stamattina live uno dei miei modi di amare è che io sono una feeder a me piace cucinare e riempire i piatti una feeder che sono quelli che danno tanto piace dar da mangiare è il mio modo di dire di ingrassare la gente no è un effetto collaterale solo perché uso tanto burro però il mio modo è dire guarda io ti amo questo è il gesto internazionale per il burro per il burro sì non manca no mi fa ridere però sì ha ragione anche HS ciao Esther non è che puoi andare da uno ti è 25 cc di amore subito in entro vene mi vanni Ancon possiamo sospenderlo per un po' se vuoi come punizione guarda è solo perché il mio mod non posso però c'è questa concezione di ci incontriamo ci mettiamo assieme ci si aspetta che entrambi già conosciamo il linguaggio relazionale che abbiamo uno dell'altro manca tante volte e non punto il dito contro monogami o non monogami in generale ma tante volte manca proprio la comunicazione di base e poi mi sembra io sai che potrei fare 20 live con te su questo argomento mi sembra che mi sembra che anche quest'altra cosa che quando ci si mette no si inizia a togliere l'esistenza dell'altro gli si toglie la personalità il tempo gli amici tutto gli si va a togliere in modo che tutto sia esclusivamente di proprietà della coppia è terrificante è mostruoso è una cosa ti toglie completamente la tua identità cioè ti faccio l'esempio una ragazza si muove di un ragazzo perché è il più simpatico della sua compagnia è un po' il leader si sa si sa muovere quindi rimane affascinata poi ci si mette insieme e gli impedisce di vedere più tutti i suoi amici cioè l'esatto contrario di quello che amava diventa quello che gli devi togliere in qualche maniera si come questa cosa che se tu inizi a essere io adesso dico coppia per facilità il linguaggio ma se tu inizi a essere in una relazione bon cioè quella persona lì deve dare tutto il suo tempo a te manca quello che fondamentalmente è la base di una buona relazione poliamorosa che è la compersione cioè è proprio una cosa che secondo me ho sentito questa parola e se lo dice lui compersione ed è una cosa secondo me grazie per il follo l'ignorante e curioso ma è stato il posto giusto ciao Andrea ah no lo conosci pensavo si si ti ho portato la mia condizione hai fatto bene hai fatto bene no poi in realtà noi parliamo spesso di di questioni sociali perché comunque il cinema ti porta spesso lì no quindi magari si troveranno bene non lo so intanto facciamo un shout out anche a a Sara così è andata a scoprire il suo fantastico canale il cinema se vuoi è l'arma migliore per riuscire a parlare di alcune tematiche che potrebbero essere scomode o difficilmente introducibili nei linguaggi o nella comunicazione generale specialmente in determinati tipi di ambienti secondo me ed è il motivo per cui mi piace questo film quello che ti dicevo proprio questo sentimento di cui non si parla prima di parlare iniziamo adesso parliamo del film volevo solo chiederti velocissimo una risposta sulla gelosia cioè come come si gestisce questa visto che hai due mariti allora premesso che proprio per avere due mariti la gelosia quantomeno per quello che è la mia molecola non poteva funzionare io quando ho conosciuto Uruk faccio una piccola premessa da cerco di tenerla breve Uruk è arrivato sul mio canale non sapendo nulla né di poliamore gelosissimo anche per sua stessa ammissione si è resa conto di essere anche tossico nella sua gelosia molto possessivo eccetera mancava totalmente di questo proprio concetto di compersione per gli altri è stato proprio attraverso questo lavoro sul discorso gelosia capire che la gelosia è un sentimento secondario deriva da qualcos'altro sei geloso perché sei possessivo sei geloso perché sei insicuro sei geloso perché hai dei traumi non risolti tuoi può essere per tanti motivi ma la gelosia da sola non sta in piedi se sei geloso c'è una motivazione dietro cioè Bari non è neanche però diciamo che comunque siccome nessuno di noi purtroppo è Gandhi oppure è una sceta quindi tutti noi siamo un po' così deboli in questo senso probabilmente un po' di gelosia c'è sia nella vostra famiglia che per esempio io penso anche tra una mamma cioè io penso anche per esempio tra la mia compagna e mio figlio ci possono essere momenti di gelosia per esempio quando io e appunto mia moglie parliamo mio figlio corre subito a mettersi in mezzo capito nei bambini sì perché c'è questo bisogno di sentire che sì però lo vedo anche nell'altra persona adulta ok io lì non ti metto no per chiarità ma anch'io però penso io ne parlo in termini proprio di microgelosia qualcosa di non tossico no qualcosa di un sentimento che passa e sfugge via no può anche esserci non è che uno poi si deve prendere a schiaffi perché ha provato un leggero momento di gelosia va anche va anche razionalizzato no va a capire perché in quel momento l'hai provato se diventa un discorso tossico c'è da capire qual è la parte che ti spinge cioè quindi c'è un discorso iniziare a fare un lavoro su se stessi Uruk per riuscire a stare con me ha fatto un grandissimo lavoro su di sé poi per riuscire a dire ok ho capito e questo discorso no io sono felice per te al di là che la tua felicità venga da me o venga da qualcun altro e questo va bene sia con gli amici per cui io mi metto in relazione con te e non vengo a toglierti tutto quello che ti rende felice perché ho bisogno che io solo sono del tuo mondo guarda me guarda me stai con me c'è questo discorso di dire io accetto che tu la tua felicità può venire da qualcosa che non sono io e sono felice per questa cosa questa è una roba chiave secondo me questa che hai detto proprio per comprendere tutto cioè bisogna imparare che non dobbiamo essere noi sempre il motivo di felicità dell'altro che è una catena diventa una catena che ci imprigiona in una relazione che c'è anche scrof ma anche perché poi non è solo nelle relazioni cioè io come dicevo prima ho visto diverse anche coppie monogame che sono bellissime da fuori eccetera lui prima aveva 10.000 attività lei usciva con le amiche eccetera si mettono assieme e basta tutto il resto viene cancellato perché devi passare ogni singolo momento che poi questo poi logora tantissimo e velocemente la coppia perché inizia poi inizia a attribuire la colpa iniziano a crearsi dei rancori fortissimi nelle coppie è come se ti togliessero la tua identità per quello che mi riguarda io ovviamente vabbè parlo per me per quello che mi riguarda però una delle cose che amo del fatto di essere una famiglia poliamorosa è proprio il fatto che hai cose diverse e riesci a mantenerle anche grazie al fatto che non sei più da sola da padre potrai capirmi gestire un minore non è facile in termini di tempo faccio un esempio anche un adulto è difficile gestire è vero è vero forse è peggio forse sì da alcuni aspetti sì però 50-60 anni fa non era solo i due genitori a dover gestire la famiglia c'erano in casa anche i nonni magari gli zii magari avevi tutto una rete era un po' una relazione di poliamore quella escludendo il sesso che poi non è neanche detto perché sai ci sarà chi si è fatto la suocera io stiamo in Texas o in è un attimo la cugina la cugina la cugina lo sai com'è no la cugina è un must è un must va assolutamente trombata e niente io le mie cugine successe quindi non posso no non dico queste cose non dico queste cose le devi dire e niente buonasera allora come ok poi dopo è un attimo farsi una famiglia uno che si è sbagliato gli hanno detto fatti una famiglia e lui da prendere noi completamente cioè dal dal nonno al comunque comunque vai dopo dopo ti farò una domanda quindi preparati vai mi preparo aspetta la so la so provate il tema in generale chiedo su che cos'è il tema allora aspetta perché è una cosa che riguarda tutti questi termini queste cose qua poliamore ecc poliamore allora se riguarda tutti i termini può essere come si chiama adesso che parlano the work movement ah no non è su quello no cos'è secondo te la perversione sessuale la perversione la perversione però non adesso non adesso adesso voglio sapere come sei arrivata a partecipare a questo film che si chiama appunto Coppia Aperta quasi Spalancata che ripeto perché è arrivato dopo è la versione cinematografica di uno spettacolo teatrale descritto da Dario Fo e Franca Rame che appunto è stato portato a teatro da Chiara Francini giusto? sì ed è diventato un film diretto da Federica Di Giacomo di cui tu sei una protagonista come sei finita in questo film? sono finita perché io circa un anno e mezzo fa quando insieme con Daniele e Efrem abbiamo deciso anzi hanno deciso io ero in minoranza e quindi sono rimasta di così di trasferirci in Italia e lasciare l'Inghilterra ho scritto in questo gruppo poliamoroso di Roma chiedendo consigli dire guardate salve siamo una una polifamiglia vengo dall'Inghilterra mi devo trasferire come sono le scuole a Ladispoli quindi la città la città era deciso anche quella era era deciso perché Efrem era di Ladispoli per cui intanto l'idea iniziale prima che succedesse tutto quello che sai tu era fondamentalmente di dire andiamo sua mamma di Efrem ci gentilmente ospitava a una sorta di appartamento nel seminterrato siamo lì qualche mese intanto che arrivano i mobili dall'Inghilterra intanto che iscriviamo con loro a scuola è stata un po' dura stare lì è stata anche una parte legata al film che poi sembra magari sembra un po' che viviate un po' sei tipo gli accumulatori in realtà non fatevi ingannare perché semplicemente era una situazione temporanea avete dovuto fare insomma quello che che potevate in una situazione di accumulo perché appunto aspettavate di trasferirvi anche perché doveva essere una cosa di pochi mesi di cercare casa poi sai cosa è successo in mezzo non abbiamo più potuto cercare casa forse nel film l'avrei spiegato un po' meglio però vabbè comunque l'idea iniziale era spiegata meglio tant'è che hanno registrato tutte delle scene molto particolari lo dico perché adesso dico una cosa scomoda voglio dire una cosa scomoda siccome poi dietro a questa cosa di avere appunto io la dico proprio così quasi pubblicità avere due mariti no c'è anche il tema di essere tacciati di persone perverse e immorali ok diciamolo perché ci sono persone che la pensano anche essere visti in una situazione particolarmente disordinata secondo me non è stato molto intelligente nel senso che comunque si poteva farci un po' d'attenzione perché questo alimenta poi un certo tipo di pensiero in realtà il contesto è stato spiegato lei appunto stava aspettando i mobili e tutto per trasferirsi come vedete in una casa normale è ancora mezzo trasloco tra l'altro però appunto non ha i cassoni pieni di spazzatura come in quelle trasmissioni per cui è un po' strana questa cosa se ne era parlato con la registra di dire magari cioè io ho detto non è il caso di filmare da un'altra parte metto no io voglio filmarvi lì il lì per noi in quel momento era stiamo in quattro in un appartamentino pensato per due persone molto cioè per nessuna colpa diciamo di nessuno però c'era un intero container pieno di roba ciao franci ciao gioia ma quanti quanti follower mi stai regalando io quando vado tutto il tuo poliamore no comunque ho capito cioè allora probabilmente si voleva si voleva far vedere cioè possono essere tanti i motivi magari si voleva far vedere quanto comunque come dire insieme si riesce a superare anche un momento di difficoltà di questo tipo però se guardi col senno di poi sì sì no premessa importante ovviamente bisogna spiegare la regista nasce come antropologa lei di base è un'antropologa quindi voleva vederti proprio nella tua situazione come si arrangerà in questa situazione no no ma infatti l'ho pensato quando io ho scritto ho iniziato a scrivere in quel gruppo lei mi ha contattato dicendo io vorrei fare questo documentario docufilm era ancora un po' così perché era ancora agli albori il progetto per cui io vengo parliamo assieme mi raccontate la vostra storia ma poi io prima di iniziare le riprese vi osservo a casa vostra osservo le vostre dinamiche e c'è passato tanto tempo ribadisco che il film a me è piaciuto molto quindi dico questa cosa perché io invece che ho una mentalità più da comunicatore penso sempre a come reagisce la gente se usi una parola piuttosto che un'altra se usi un habitat piuttosto che un altro e quindi ho pensato a questa roba poco male chi è minimamente intelligente va oltre questi dettagli insomma li supera si rende benissimo conto soprattutto sentendoti e sentendovi che siete persone in gamba e quindi dicevi hai scritto in questo forum e lì sei stata contattata mi ha contattata all'inizio io non ero del tutto convinta perché comunque c'era in ballo il trasloco dovevo parlarne anche con loro poi io per cose pregresse mie in università ho sempre amato tutto il mondo del stare dietro la telecamera e quant'altro per cui per me era oddio sì fatemi vedere come funziona eccetera e l'ho adorato cioè il vedere dietro le quinte vedere il lavoro anche solo proprio di tutta la truppa io l'ho adorato meno quello di stare davanti alla telecamera quello non troppo però è stata però ma ci stai ci stai anche in live però il live è diverso sai perché c'è a me in live c'è la chat non ti senti sì sì mi rendo conto non sono io e basta c'è la comunicazione lì invece sei tu e ciccia ci ha seguiti per un po' di mesi abbiamo conosciuto lei abbiamo conosciuto una delle scrittrici del che ha partecipato ad adattare sai che ora che mi dici che è antropologa capisco meglio come è costruito tutto il film perché ho visto queste discussioni con Chiara Francini abbastanza accese pungenti che mi sono piaciute tantissimo perché secondo me è bello che le persone si confrontino per come sono per come ragionano nel senso non c'è niente di male nell'avere le proprie idee anzi mi sembra che la la Francini faccia anche un po' un mea culpa no tra virgolette tipo perdonatemi ma io sono cresciuta così cioè con questa con questa idea religiosa molto molto pressante come se un occhio mi guardasse per ogni cosa che faccio ti tacciano di capito di donnaccia in un mondo come questo una cosa che a me dà di un'angoscia pazzesca è angosciante e la capisco capisco che per esempio fatichi ad accettare certe cose però si è confrontata tranquillamente quindi l'ho apprezzato veramente tanto sì diciamo che c'è per chi dovesse vedere poi questo film quando uscirà sulle varie piattaforme in tanti mi hanno chiesto se era scrittato cioè se era un discorso di c'erano i copioni a parte quello che si vede in cui Chiara e Alessandro sono fisicamente sul palcoscenico quella è l'unica parte è l'unica parte dove c'è il copione che è il testo teatrale è scritto da Franca Rame e Dario Fo tutto il resto la nostra famiglia i gruppi poliamorosi i gruppi di sex positive Chiara Francini con il suo compagno Chiara Francini poi quando all'inizio fa le prove con la sua famiglia la mamma di Chiara Francini è una cosa spettacolare ma è tutto naturale cioè non sono cose che dicono che adesso tu fai questo e lo fai anche se c'è da dire che un'attrice e un attore davanti a una telecamera sono in grado comunque di portare un personaggio infatti lo fanno ma lo fanno in modo però che si capisce appunto che non c'è un copione lo fanno essendo loro stessi con un pizzico di quella parte di artista che loro sono però mi viene da dire che Chiara Francini ma anche l'altro attore che si chiama Alessandro Federico essendo artisti io ne ho conosciuti tanti di artisti attori di teatro cinema cioè quando vanno fuori a avere l'aperitivo anche senza telecamere sono dei personaggi cioè gli piace comunque andare un po' oltre quello che è alcuni non tutti per cui quello che vediamo non è appunto un copione però loro sapevano per esempio quando sono in cucina o quando vanno dalla mamma c'è un po' di verità ma c'è anche un po' come dire come quando noi andiamo in live non è che ci mettiamo a dire tutti quelli che sono i nostri problemi magari qualcuno lo fa anche ma non nel modo peggiore possibile non è che facciamo la cosiddetta cacca davanti alla telecamera facciamo vedere le cose migliori non arriviamo col peggio di noi quindi nello stesso modo lì c'è della realtà e della finzione però quello che poi viene trattato le discussioni per esempio sono molto vere le discussioni che ci sono molto accese e il bello secondo me dell'occhio della regista è stato proprio quello di avere una pazienza infinita perché le ore di girato sono state veramente tante ha filmato tantissime cose che purtroppo poi non si sono viste abbiamo fatto un poliaperitivo in cui c'era una scena di Uruk poliaperitivo si chiamano poliaperitivi dove fondamentalmente facciamo un aperitivo però non dovete ghettizzarvi cazzo su questo ti do ragione nel senso da una parte è brutto restare sulla quando vedo il gruppo di femministe nel cerchio io vedo io sono un grande difensore dei diritti di tutti però io quando vedo quella cosa lì per quanto capisca che c'è bisogno di lottare contro certe cose quando lo vedo arrivare a quel punto lì mi sembra veramente una cosa molto forte non vorrei usare un termine però magari lo uso c'è un po' la cucuscan cioè mi sembra quasi che fai il giro no mi sembra quasi che fai il giro inizi a fare la caccia alle streghe però in questo caso le streghe sono quelli che non capiscono noi capito e quindi diventa molto aggressiva come cosa però capisco che ci sia bisogno di riunirsi capisco che ci sia per esempio io non capisco il cinema lgbt perché per me è un film d'amore è un film romantico il genere è un film in cui due persone si amano che siano due maschi o due femmine o due maschi per me è sempre un film romantico o tanti se no noi che facciamo perdonami adesso mi abituirò anche a dire o tante persone che si amano o anche un esercito di persone però fammi finire io ho un amico che è il regista internazionale del cinema horror estremo che fa dei film horror estremi dove spesso ci sono delle scene cioè i personaggi possono essere due uomini che sono omosessuali perché lui è omosessuale quindi io dico sempre una persona racconta spesso quello che è il suo il suo vissuto o Jordan Peele fa i film con i neri perché lui è nero non sente magari sempre il bisogno di farli con i bianchi no? allo stesso modo lui fa questi film quando lo etichettano come un regista lgbt o comunque un film di quella categoria lui si incazza ma gli dice no è un film horror non è che siccome io sono gay e magari sono due personaggi gay allora il film diventa un film gay allo stesso modo io capisco che ci sia bisogno di riunirsi di lottare eccetera però ogni tanto vedo che questa cosa diventa un po' troppo forte è la stessa violenza che vedo quando invece poi sono queste persone a subirla c'è c'è a dire una cosa c'è due cose alla base che vanno di pari passo in entrambe gli esempi il discorso di cinema lgbtq piuttosto che le femministe lì tolto che nella parte delle femministe anche per una questione di cinema si è preso le parti più forti perché erano quelle più non si è visto ci sta a dirlo quello che si è visto lì era dieci minuti noi siamo stati lì tipo una roba come quattro ore c'è stata anche più diplomazia che però non è stata messa diciamo c'è stata tanta diplomazia cioè lì siamo arrivate che veramente ne ha tirate fuori tante per cui eravamo tutte molto stanche mettiamola così la la lei ha avuto secondo me la Chiara ha avuto la classica reazione di quando tu sei da solo a una tavolata e vieni aggredito da tutti che inizia a straparlare ha avuto la non so quanto sia di suo o quanto sia di personaggio ma era arrivata col preciso intento di dire di scontrarsi un po' è una provocatrice questo è stato molto poco è stato molto cioè è per quello che quello che si vede è la fine di quattro ore di riprese in cui eravamo veramente non c'era ascolto non c'era proprio eravamo completamente esauste per cui c'è da dire quello come premessa per chi vedrà il film quindi è il personaggio giusto secondo me per questo ma io lo dico cioè lei è stata sul cazzo diverse persone che ne hanno proprio detto fa il personaggio così era molto sboccato molto contro contro però se vuoi ci voleva questa questa cosa no però la base per sia il discorso del femministe sia il discorso del LGBTQ che anche nel discorso dei poli aperitivi o quant'altro è che ci sono due cose vanno in parallelo come un binario cioè la poca rappresentazione da una parte per cui alla fine ti tocca chiedere è veramente a me sta sul culo tantissimo questa cosa e dire bisogna fare per forza una categoria perché se no non c'è nessuno che c'è voglia di rappresentarci allo stesso livello di qualunque altra cosa e dall'altra parte il bisogno per chiunque fa parte di una minoranza di un posto sicuro dove poter parlare certo certo come dice Andrea quello secondo me non è sbagliato il poli aperitivo non è nient'altro che un aperitivo normale dove si beve ma tu sai che sei con altre persone poliamorose anzi a volte è anche quel momento di tregua di cui hai bisogno no c'è un senso ma lì diventa l'apertura al mondo fuori non siamo bolla chiusa perché di solito i poli aperitivi sono il momento in cui inviti persone che non ne sanno niente di poliamore li invita il poli aperitivo che è una cosa molto scialla molto informale vieni ci facciamo un pirlo perché no lo spritz è il pirlo perché sono bresciana ci facciamo un pirlo e nel frattempo chiacchieriamo è molto ti dà meno questa impressione del vado a una conferenza dove mi insegnano oppure vado e vengo giudicato perché sono solo io è molto una cosa molto ma secondo te adesso non per prendermi con le femministiche io in realtà sono cioè diciamo mi sento comunque di essere da quella parte lì magari non sempre nel cioè non nel modo in cui viene portato avanti però mi sembra che ci sia molta cioè che questa sia già una guerra come le guerre quelle vere capito e quindi e quindi però è la cosa brutta delle guerre sai cos'è sono sono i diciamo quelli che poverini non c'entrano tanto nel senso che magari non sono non sono persone che rompono il cazzo a come vivono gli altri però non capiscono quindi mi sembra che questa cosa della guerra va bene allontani un po' invece quelli che sono ben disposti che semplicemente sono talmente perché poi secondo me chi è così è una vittima è una vittima di una di come è stato cresciuto è vittima di un indottrinamento sistemico cioè tu cresci tu cresci con i cartoni animati che ti dicono che devi avere un compagno un compagno anima gemella dall'inizio della tua esistenza fino e cresci con il fiocchino azzurro il fiocchino rosa cioè siamo tutti un po' vittime di questa cosa quindi un po' mi sento sciocco a dire ah tu sei uno stronzo perché tu non ti sei svegliato da questa cosa non l'hai capita però dimmi una cosa io e parti dal presupposto provocami io sono una dai che ti provoco tutto parti dal presupposto che io te la butto lì come provocazione e io sono una che non sono della corrente di pensiero che c'è in alcuni ambienti del siamo nel 2004 google esistere è compito tuo informarti non sono cazzi miei non è responsabilità mia informarti io ho tirato in piedi il canale twitch proprio per fare sei anche qua per lo stesso motivo penso sono qua per la stessa motivazione esatto ma io ti ho invitato per lo stesso motivo per cui vedi in un certo senso anche se non non capisco non sento il poliamore però credo in una cosa nella libertà e quindi per me a tutti questi temi mi interessa però ti butto la provocazione dimmi nella storia un grosso cambiamento sociale specialmente quando riguarda i diritti delle minoranze che è avvenuto chiedendo per piacere senza usare violenza uno allora no chiedendo per piacere non è che non è un metodo però ci sono tanti modi in cui la storia cambia purtroppo non sono belli i cambiamenti mai senza un minimo di violenza che forse è verbale fisica di riot i grossi cambiamenti sono guarda te ne dico uno grandissimo forse il più grande cambiamento della storia dell'umanità a parte quando hanno inventato il fuoco queste cose super rivoluzionari il più grande cambiamento della storia dell'umanità è stato quando hanno inventato internet e i social media non è però un discorso di diritti delle minoranze io quello che parlo è di diritti delle minoranze no però dico il mondo cambia il mondo cambia anche e anche le anche ma lì è legato al denaro no aspetta aspetta lì è legato al denaro però non è però non è cioè non è quello lo scopo iniziale cioè del senso a parte quella motivazione lì quello che voglio farti capire è che probabilmente i movimenti non esisterebbero senza cioè i movimenti come sono oggi forti come sono oggi e i film che stanno nascendo e tutte queste realtà che stanno non esisterebbero e forse ci avrebbero messo non lo so milioni di anni a fare i passi che sono stati fatti oggi grazie al cambiamento incredibile che una cosa che non è la guerra perché effettivamente prima la guerra era l'unica cosa che cambiava cambiava tutto ha cambiato quindi quello che ti voglio dire è che secondo me adesso abbiamo in mano uno strumento potente di cui vogliono avere tutti il controllo e ci stanno togliendo tantissima libertà ed è questo questo strumento che ha permesso ai movimenti di crescere e di diventare forti a tutti i movimenti mentre invece i grossi cambiamenti parlo per esempio i riot a New York che hanno portato che sono successi grazie quelli di Stonewall sono successi grazie a persone a tutto il discorso della comunità trans se non ci fossero stati loro a iniziare questo movimento violento perché serviva contro il discorso della polizia e tutto quanto non ci sarebbero io non sarei capo a parlarvi adesso detto ciò io sono sono no vabbè detto ciò poi andiamo avanti con questo con i temi insomma perché poi non vorrei divagare se è giusto o non è giusto io sono personalmente mi sento poco disposto a dialogare con chi è estremamente aggressivo e usa appunto una disparità cioè entra in una discussione in modo in questo modo cioè o comunque è stata creata apposta questa situazione in cui c'è una persona contro dieci persone che probabilmente appunto sapendo che era così ha detto vado là e inizio a buttare granate a destra e a sinistra allora personalmente io come persona sono come te quando c'è un discorso violento diciamo che mi arriva violentemente per qualsiasi argomentazione vogliono fare io vado sulla difensiva cioè o inizio a attaccarti tipo tigre o me ne vado quella era una situazione che peraltro è stata gestita e voluta io non so chi l'abbia deciso se prima Federica Di Giacomo oppure la Francini ma teniamo conto che la Francini non è solo attrice è anche produttrice per cui tutto quello che si è fatto nel film si si infatti è interessante come si è messa lei in quella posizione secondo me per un'altra motivazione che era fondamentalmente quello di prendere delle se vuoi questo lo dico a titolo personale per cui se mi arrivano querele non lo date al Gonzo datela a me ma vabbè se non insulti poi è sempre un secondo te non è che io l'ho percepita ma si dice anche non voglio far troppi spoiler ma viene menzionato nel film che lei è questa femminista pop cioè c'è questo livello di femminismo in determinati ambienti che è quello del dobbiamo essere tutti bravi il femminismo fino a che non va a pestare i piedi dei potenti questa cosa cioè ci piace darci l'etichetta femminista in determinati ambienti nella realtà di femminismo abbiamo molto poco nel senso alcune cose che ha detto lei io le ho trovate estremamente problematiche tante sono state tagliate secondo me c'è un personaggio dietro anche a questa cosa qua onestamente c'è sicuramente c'è un personaggio è evoluto come se volesse interpretare non se stessa ma anche delle voci che lì non c'erano quindi dentro a quelle frasi dentro a quelle battute c'erano anche altre cose che senti in rete che senti in giro mi mettiti nei panni suoi da produttrice tu devi fare in modo che il film vada bene non sarebbe andato bene alla stessa maniera no infatti secondo me è un personaggio concordo con voi tutti a casa e tutti al poliaperitivo tutti al poliaperitivo ubriachi già lo sai di sera perché quello c'è la fine quindi ci sta no no infatti è arrivata come un pugno nel stomaco è veramente dice delle cose problematiche che per chi è abituato e questo vado contro la mia stessa community poliamorosa diciamo che per chi è abituato a stare solo e a comunicare avere amici solo all'interno della bolla poliamorosa piuttosto che del poliamore femminista insomma tutto il discorso dove c'è sicurezza dove sai che qualunque cosa dici sei tra persone che hanno ti dà ragione tra virgolette ti dà ragione è sicuramente arrivata molto violenta io non lo metto in dubbio anzi cioè concordo che per alcune persone che non sono abituate a scontrarsi tutti i giorni con persone come lei possa essere veramente difficile da mandare giù poi ognuno può avere le sue motivazioni per amare o odiare totalmente il film e quelle sono tutte valide però secondo me il film non sarebbe stato in piedi così bene come sta in piedi senza di lei ci voleva quella parte secondo me è un'interpretazione perché ci voleva quella parte con cui tu ti scontri tutti i giorni tu rappresenti diciamolo perché poi è la verità tu lì rappresenti diciamo una community non solo una community perché vieni da un forum tra l'altro mi chiedevo ma esistono ancora i forum solo per lì in questo caso appunto una community anche che da qui arrivi del forum però rappresenti una realtà una realtà che è sempre stata nascosta repressa bloccata vista come una malattia vista come il peccato originale quindi ci voleva quella voce aggressiva del mondo che non vuole il cambiamento perché crede che che si stia bene così ma in realtà come hai specificato tu all'inizio è pieno di coppie dove ci sono tradimenti che poi questi tradimenti poi degenerano in ammazzamenti in botte che ci si dà cioè veramente c'è una violenza incredibile in tutto questo mentre violenza anche mentale e verbale di una cioè di un livello inaudito cioè e tante volte sono gli stessi che poi dicono ok sì no ma ciao rischiamo insieme per sempre ciao un bacione grazie che sei passato gioia chieda se ha approfondito il discorso delle poligamie in altre culture cosa può dirci riguardo guarda io non mi ergo esperta delle poligamie anche perché io sono poliamoroso purtroppo non me lo permettono perché non è legale allora fondamentalmente quello che c'è dai mormoni piuttosto che anche in altre culture così è sempre patriarcale comunque patriarcale un uomo con tante donne c'è una solo una community tribale piuttosto dove fondamentalmente le donne possono avere più uomini ma si parla di numeri talmente piccoli che fondamentalmente non fanno neanche statistica il grosso della statistica dove ci sono le poligamie è esclusivamente un discorso di base religioso che sia cristiano che sia islamico però il concetto è sempre un uomo che può avere può avere tante donne se se lo può permettere perché comunque questa cosa tanti la saltano qui ti fanno anche i conti in tasca c'è un tribunale che decide se tu puoi perché chiaramente loro non devono lavorare classicamente devono lavorare nel senso come come donne delle pulizie fondamentalmente come come moglie come donne di casa ma non possono lavorare fuori devi mantenerle devi mantenerle ma devi mantenerle tutte allo stesso livello non puoi dire la prima la mantengo e l'altra no quindi di fatto sono solo quelli di un certo livello magari lo fanno anche per flexare un po' il denaro che hanno i mormoni no i mormoni buonasera amici comunque non è un altro tema questo qua proprio totalmente un altro tema è proprio il patriarcato e lo schiavismo quasi non ha proprio a che vedere col poliamore e anche il fatto che la donna non ha non ha modo di dire di no tante volte in questo tipo di culture chiuse i mormoni sono estremamente chiusi se tu dici no io non voglio diventare la terza quarta moglie di tizio caio ti ci fanno diventare oppure te ne devi andare e sei morto per loro non puoi andare più da sua parte di questo è un esempio giovi io mi fa impressione vedere dei giovani che magari non approvano quindi già indottrinati tu ne hai incontrati? tanti specialmente sul mio canale ne passa ovunque siamo su Twitch quindi eppure sai cosa ho trovato molta più chiusura mentale nei giovani che arrivano sentono che io ho due mariti e giudicano insultano qualsiasi cosa che dalla nostra età diciamo dai 40 anni in su ho trovato magari delle persone che sono arrivate e me l'hanno detto chiaro guarda io non potrei mai cioè proprio non esiste ma per carità tu non stai vendendo nessuna aspirapolvere cioè non è che stai chiedendo alla gente eh infatti però ti dicono guarda io non potrei però tu sei felice io dico sì sono estremamente felice brava sono contenta per te raccontami un po' e c'è questa curiosità di capire l'ho trovata molto di più dalla nostra età in su ma posso dirti che tu hai anche il diritto di non essere felice avrei anche il diritto quello cioè tu non è che sbagli se sei felice allora stai facendo la cosa giusta e se sei infelice la cosa sbagliata tu hai il diritto anche di vivertela male cioè perché se è quello che senti quello che vuoi e però ci sono dei problemi come possono avere tutte le persone perché appunto non è che la soluzione la soluzione per star bene non è nel poliamore nel monogamia cioè è un problema è una questione molto personale stare bene o stare male ma poi grazie che mi dai questa imbeccata perché vorrei mettere in chiara una cosa che ho notato che in tanti prendono così cioè non è un i monogami brutto noi poliamorosi siamo i più belli non litighiamo mai o litighiamo anche noi perché nel senso anche nella comunità poliamorosa ci sono le persone tossiche ci sono le persone belle ci sono le persone brave cioè nel senso siamo persone sì sì ma perché poi dipende da noi in realtà nel film poi ovviamente perché ho avuto alcuni che dicono sì vabbè però vi fanno vedere che non litigate mai non è che allora in quel periodo è vero sfatiamo un mito sfatiamo anche noi quanto mediamente non tanto per assurdo non tanto una volta a settimana poi dipende sempre come litighi perché se è un abesticcio di 30 secondi che poi dopo dopo altri 30 secondi ti sorridi non è un vero litigio è semplicemente un'incomprensione del momento cioè generalmente il nostro litigio sono io magari che vado in soggiorno vedo che il signor polemica gratuita a.k.a. Daniele Maritozzo numero uno è sempre tipo lascia la sedia spostata oppure non metta a.k. sei maniaca del controllo ho capito no a me sono OCD io proprio ah ok hai una sì 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 per cui ti dico quindi non pesti le righe per strada queste cose qua ok le sal le scavalchi adesso di meno prima di più ma a parte ma ci sta oppure c'è il discorso per esempio Efrem che dice sempre a Daniele cazzo ma non ce la fai a dosare il sale giusto nella pasta cioè sono quelle cose di vita di tutti i giorni quando c'è la litigata magari più forte si è creata una dinamica tra noi che è veramente particolare nel senso che se io litigo con uno di loro due generalmente io litigo nel frattempo c'è l'altro che cerca di calmarmi e poi mi prende a parte e mi dice sì però cerca di vedere anche il suo punto di vista si tengono la parte tra loro e tra loro io i due anni e mezzo che siamo assieme non li ho mai mai visti litigare una singola volta a parte sale per la pasta basta fine cioè non li ho mai mai visti litigare loro cioè è una cosa spettacolare appunto poi quello mi ritorniamo al discorso della stanza disordinata che è vero il biccerino cioè uno vede la stanza disordinata e dice vedi come vivono questi poliamorosi e allora allora allo stesso modo tu devi essere felice perché se non sei felice allora vuol dire vedi però nel caso della monogamia invece puoi tranquillamente tirarti le pentole in faccia io ho preso una forchettata sul braccio vi dico solo questo ah ecco non male cioè bello poi te ne racconto no il punto è questo nella monogamia cioè se anche dici oh ho litigato con mio marito cazzo ce ne siamo dette di tutti va bene è pota ragazza ma è così cioè il matrimonio è così se dovesse dire io e mi è capitato con una mia amica che un giorno mi sono sfogata via whatsapp ho detto guarda ieri doveva fare piatti x mi sono incazzata abbiamo litigato e lo vedi non dovevi scegliertene due ma che cazzo c'entra ecco è quello che volevo arrivare ma che cazzo c'entra doppi problemi doppi problemi oppure come c'è se c'è ancora o doppia soluzione ecco esatto doppia soluzione se c'è ancora franze calimero in chat lei è del mio stesso paese per esempio al mio paese mi ha detto che dicono eh sì per tenere il carattere suo della Sara ne servono due per forza ma che cazzo ne sai però fa abbastanza ridere detto così ah perché in due io ci sono rimasta e ho detto ah sì davvero ma tu la vivi questa battuta la vivi come se qualcosa che discrimina la tua relazione oppure è una cosa che tolleri non cioè allora diciamo che c'è eh cioè ci vedi della cattiveria forte ci vedi molto cattiveria perché e comunque sono persone ma non legata al poliamore poi sai dipende sempre chi lo dice perché se lo dicessi io non ci vedresti niente di male no penso di no no per cui è da dove arriva poi tu ti sei preso comunque la briga di ascoltarmi di conoscermi eccetera queste sono persone a me non mi è mai fregato niente che avessi due mariti sinceramente esatto cioè quella situazione non mi è mai fregato nulla da una mentalità di paese che è molto giudicante dove se io ho fatto questa scelta ci deve essere per forza una motivazione negativa di base sul perché mi devono sopportare cioè è impensabile che una donna possa avere due uomini per delle motivazioni normali come l'amore l'amore cioè non esiste ho tre mariti poliamorosa comunque se questa è la mentalità di paese allora Milano è un paese perché mi sa che grazie Trixie per l'abbonamento benvenuta ecco è arrivato il mio uomo a difendermi ah ecco perché l'hai fatto così ne avevi due di uomini a difenderti povera donna in difesa magari si coalizzano sempre contro di me ciao Rampion ciao bella c'è questa cosa non si fa si accetta le cose negative nelle monoghanie ma non nel poliamore non non è possibile sì no sono d'accordo con quello che dice Uruk che poi è Efren no si è Efren allora facciamo un jump allora il film è stato bello farlo immagino no faticoso ma va bello faticoso sì perché comunque li abbiamo avuti tanto per casa specialmente anche a orari prestissimi per filmare quando ci svegliavamo quando facevamo colazione ti senti un po' il grande fratello tipo tantissimo sì cioè anche nella doccia cioè quindi c'è più di così io speravo di vedere un po' di più ma vabbè se volete vedere Sara Nuda si vede bene no scherzo si vede bene si vede bene tutto proprio quindi guardate il film no lo dico per il marketing questo vi va male? poi avete proiettato insomma avete fatto le vostre presentazioni come si dice anteprime eccetera poi è stato al cinema è stato un po' questa settimana al cinema ah c'è ancora adesso in alcuni allora al studio piano piano si sta diciamo sta scemando sta scemando certo e comunque questi film hanno poco spazio ma non questo in particolare perché è particolarmente sociale in generale o è una troiata di quelle proprio cosmiche che prende tutte le sale oppure tutti gli altri film fanno un po' fatica però appunto avrà la sua seconda vita esatto ah ok avrà la sua seconda vita poi nello streaming tu sai già la distribuzione se andrà beh iwonder iwonder ha già il suo canale quindi vediamo alla sua piattaforma dovrebbe uscire presumo una volta che non c'è più un le sale presumo lo mettano fuori loro so che c'era un discorso con Rai Cinema sì perché magari conviene vendere i diritti prima alle altre piattaforme e poi magari passarlo lì comunque quando uscirà noi faremo pubblicità sia su questo canale sicuramente faremo pubblicità ve lo andate a vedere e poi esatto dove si vede Sara che fa la doccia nuda cioè adesso così si fa la doccia io dico come si fosse una cosa speciale e poi sei stata ecco questa parte mi ha incuriosito tantissimo sei stata a Venezia come nasce questa cosa vedi già stata a Venezia come città a Venezia città sì tante volte da Bresciana e te lo fai spesso consiglio non fassero mai a Capodanno un tuffo Venezia così tra le pantegane tra le sorghe le sorghe come sono le sorghe eh i toponi quelli grossi così ma si chiamano anche sorghe con la coda lunga lunga eccetera ehm sì come città sì per quello sì eh come film festival è stata una cosa spettacolare ehm è tutto nato perché eh hanno eh voluto eh come apertura come film di apertura proprio copia aperta quasi spalancata per le giornate quindi hai fatto il red carpet non per entrare non proprio ah ok no 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 ok però però comunque hai vissuto un pochino da il questo mondo l'hai vissuto dall'interno da protagonista ecco ecco non lo so dimmi qualcosa ti devo strappare te ne sono curioso sono curioso ti racconto tutto ti ti tiro fuori tutto perché sono contenta di raccontare perché poi sono cose che mi rendono strumenti non ti agitare troppo che mi salgono gli spettatori eh vedi ma quanto vogliamo arrivare io voglio no io voglio rimanere più intimo come un po' lì aperitivo eh esatto una cosa così tra noi c'è fondamentalmente è nato tutto perché ehm cioè hanno chiamato i film come giornate d'apertura la regista ehm ci ha veramente è stata gentilissima perché ci ha invitato lì in teoria tutta come molecola dovevamo andare tutti e quattro ehm in realtà poi essendo un mercoledì la sfiga ha voluto eh giustamente sia Efren che Daniele lavoravano non potevano prendersi in quel periodo giorni ferie perché se ne sono già presi tanti per questioni mediche quindi e poi c'è anche da dire una cosa e Urk qua lo confermerà eh nessuno dei due ama stare troppo sui riflettori ehm e lì fondamentalmente ce ne siamo stati non perché siamo le star di chissà cosa ehm io l'ho amato siamo arrivati a parte che la produzione è stata spettacolare ci hanno mandato e sono arrivata con la eh Irene che è la montatrice del film donna spettacolare ha fatto secondo me un lavoro bellissimo mi è piaciuto tantissimo il suo lavoro e ci hanno sono arrivati con quei motoscafi come si vede nel sì sì infatti cioè con lo stesso motoscafo di Johnny Depp sì sì siamo arrivati infatti poi li abbiamo dovuto restituire Gossi esatto e volevo portarmi la casa ma hanno detto di no è stato bellissimo e noi eravamo praticamente con la regista e siamo rimasti comunque lì a Lido abbiamo visto da dietro le quinte perché ovviamente le interviste c'era Chiara Frecchini c'era la regista come è giusto che sia però è stato bello perché abbiamo potuto vedere com'è il film com'è regito il pubblico al film spettacolare guarda quando siamo arrivati a parte che ci hanno presentato ci hanno fatto alzare io già ero lì oddio adesso mi guardano e poi sono stata la cretina perché con la metto sì ma già ti devono guardare sullo schermo che cazzo ti fa i problemi abbiamo fondamentalmente avuto una reazione estremamente positiva dal pubblico ma durante il film ridevano? sì no perché effettivamente è un film che fa ridere è un film che fa ridere ci hanno messo dei momenti più sereni più di dove si sdrammatì poi in realtà non è in serio cioè è interessante come è posta tutta la cosa riesce a gestire la comicità voluta o non voluta mettiamo la cosa voluta o non voluta con l'argomento serio alcune tematiche estremamente serie che ci sono di base quindi secondo me è stata fatta in una maniera impressionante veramente la regista ha saputo gestire le due cose in una maniera molto bilanciata c'è stato molto un po' tutte le sale c'è stata una bella partecipazione nel guardare film con tante risate tanta gente anche che sentivi che commentava in determinati punti del film molto presa ce l'ho visto non solo a Venezia ma un po' un po' ovunque scatena la discussione dici sì ma anche dopo perché a Venezia è stato veramente una quantità di gente perché poi ci hanno fatto ha parlato poi Chiara Francini ha parlato la regista Federica Di Giacomo e poi hanno fatto parlare me quindi ho avuto modo fondamentalmente quei due minuti che non è che è stato chissà cosa però ho potuto finalmente alzarmi in una platea come non mi sarebbe mai potuto succedere altrimenti a Venezia ho dovuto fare la brava che ricordo che mi dice tieni il Bresciano bello a posto neanche una parolaccia ho detto quindi scusate ma un applauso lo vorrei esatto lo metto io tu non lo senti ma ho l'effetto audio che ti ho appena mandato perfetto ho avuto modo di portare quello che è stato un attimo la mia opinione cioè sì ora però ricordatevi che quello che vedete c'è da una parte c'è la parte ma siccome si capisce comunque ma poi c'è la parte che viviamo sulla nostra pelle quello che vedete è il vissuto di tantissimi di noi io sono stata fortunata che ho potuto mettere la faccia e dare una voce la mia voce lì ma c'è un'intera hai dato qualcosina in più perché poi c'è anche una parte no a parte la scena da doccia dico c'è una parte della tua vita abbastanza spaventosa che tu hai messo lì non è allora c'è una sorta di pudore nel registico dove non è stato tutto esplicitato sì e no se vuoi ti faccio uno spoiler in che senso non nel senso ti dico come dovevano dove come dovevano io non penso che questo ok non penso che questo tema che tu comunque ne parli ne hai sempre parlato in live quindi penso che si possa dire che è pubblico non penso che cambi il destino del film nel senso che è una cosa in più se vuoi dirlo tu diciamo di dire non dire non è voluto cioè è stato ok io invece l'ho letta come non vado troppo a dire questa cosa perché forse anche in un certo senso poi spostava il tema su un'altra cosa cioè era troppo forte come però doveva essere più forte di così nel senso che voleva faccio la premessa per la tua commione giusto così sano di cosa parliamo quando io ho contattato cioè sono stata contattata da Federica Di Giacomo io ero ancora in Inghilterra stavo bene tutto quanto e ho accettato di fare questo progetto in itinere una volta mi sono trasferita in Italia hanno scoperto che avevo un tumore al cervello sto bene mi hanno già operato cioè guardate come sono scema io ti ho vista anche in condizioni pietose e capisco quanto cioè ho visto un po' quanto a soffrire perché avevi un altro aspetto eri proprio stanca distrutta è stato un periodo tra l'altro c'è questa cosa bella che appunto bella che appunto il il poliamore in un certo senso ti ha salvato la vita no te l'ha salvata proprio letteralmente me l'ha salvata letteralmente perché diciamo lì in Inghilterra non avevano trovato nulla di questo tumore mentre appunto voler venire in Italia per riunirti con il tuo secondo marito ha portato a fare una visita in Italia dove invece questo tumore è stato scoperto quindi il caso il fato questa cosa che non si sa se esiste o meno ha fatto sì che tu fossi io devo ringraziare il fatto di aver di essere poliamoroso di aver trovato Uru perché se no a quest'ora magari non sarei stata in live però c'è da dire questa cosa che è stato un fulmine a cielo sereno durante già una fase in cui avevamo già iniziato anche non a fare proprio le riprese ma stavano riscrivendo la storia per mettere noi dentro nella nella storia cinematografica per cui anche loro li ho detto si sono dovuti fermare e dire come affrontiamo questa cosa e piccolissimo spoiler quando abbiamo fatto la chiamata a Federica Di Giacomo per dirglielo la regista è stata umanamente spettacolare cioè io la adoro veramente perché è stata veramente vicino non ha messo l'interesse del film prima però poi io a un certo punto gli ho detto quando ormai avevamo tirato fuori tutto quello che c'era si va fuori emozionalmente parlando le ho detto però Fede lo dico io che così non lo devi dire tu dal punto di vista cinematografico sta cosa oh è figa è brutto dire però è vero perché dà complessità a una storia che magari poteva risultare banale perché quando ho scoperto il tumore la mia la mia famiglia poliamorosa si è compattata ancora di più e lì si poteva davvero vedere se si stava in piedi o no perché diciamocelo fuori dai denti tutto bello quando tutto va bene parliamo anche di soldi quando magari si perde il lavoro e uno della coppia non ha più il lavoro e non guadagna più o ha un grosso problema e deve pagare qualcosa di molto costoso cioè è lì chi è che si sacrifica è quello cioè quello ha fatto vedere e piccolo spoiler che non cambia cioè non è uno spoiler sul film è solo proprio c'è una scena in cui i miei due mariti parlano al di fuori dell'ospedale ciao Trixie e sorrivo rispondo fondamentalmente quella scena è stata l'unica scena rifatta perché nella realtà avevano filmato erano quando io sono andata sotto i feri in sala operatoria che mi hanno operato era tipo 6-8 ore di intervento loro erano lì con le telecamere e hanno filmato le reazioni proprio minuto per minuto dei della mia famiglia e sia Efren che Daniele che entrambi non sono persone che amano stare davanti alle telecamere già gli dà un po' fastidio quando li tiro lì la telecamera su Twitch siamo quattro ragazzi figurati nella vita vera però entrambi loro hanno detto per fortuna che c'erano loro almeno c'è passata un po' meglio perché sono tutte persone estremamente di un'umanità enorme stai parlando del team la crew che lavorano il direttore della fotografia la regista ma tutti ma proprio tutti per cui hanno detto per fortuna ma questa cosa è incredibile comunque a livello e loro hanno filmato hanno filmato perfino il medico la scena proprio in quando il medico è uscito ha dato e comunque si è scelto di non mettere tutte queste no non si è scelto quindi l'oscar che era lì a un passo non si è scelto di non mettere purtroppo ma è stato il gemelli nel senso che il gemelli aveva dato l'autorizzazione poi probabilmente è arrivato sentore ai piani alti che era un film sul poliamore che io avevo due mariti hanno revocato la come si dice l'autorizzazione perché di solito negli ospedali c'è una connessione molto stretta con beh è il gemelli è quello del papa cioè nel senso è l'ospedale del papa ok infatti io mi ero molto stupita che avessero detto sì ed è un peccato perché si vede perché non l'hanno capito non l'hanno capito no purtroppo no quindi cioè in realtà dove essere un po' più forte di così poi è andata com'è andata e vabbè dice se abbia l'impressione che ci sia una dice Trixie una deriva conservatrice di mentalità chiusa anche nell'ambiente artistico e cinematografico per quel che ho potuto osservare dall'esperienza allora ho trovato un ambiente molto più aperto di quello che mi aspettassi cioè allora è vero che poi davanti tutti ti possono fare la bella faccia e poi dietro dirtene di ogni però è un film che è stato premiato ha vinto il premio siae che ha dato alla regista per il suo lavoro cioè che ha fatto un lavoro spettacolo è un film che è stato supportato dalle giornate degli autori mettendolo come film d'apertura per cui comunque cercando di dare diciamo una visione un palcoscenico a un tema che non era così proprio facile diciamo pensavo molto più no poi non hai detto il trofeo più grande che ha vinto che è piaciuto a me è vero è piaciuto a voi cioè scusa cioè questo forse è il più grande traguardo che si possa raggiungere ma infatti cioè io vorrei vedere dove la statuina che dai cioè mi aspettavo la statuina di cioccolato e le sto producendo però anche il pubblico grazie per il follow full titanium ma scusa ciao titanium ma quanti parenti hai c'è a dire che io quando faccio le live non siamo tanti ma siamo un gruppo bello ma infatti mi stupisce perché ho invitato tanti streamer ma tu sei quella che mi ha fatto fare più follower di tutti poi magari me lo tolgono domani però non toglietelo io quando ci sono fagli giurare che non mi tolgono il follow giurin giurello tutti e dovete lurcare anche se non vi interessa lurcate si giurin giurello vi faccio totò non la sola vi viene a casa vi faccio totò sul culetto occhio non iniziamo col porno non iniziamo col porno no volevo dirti visto che hai parlato di toc toc sul culetto la domanda dell'inizio mi interessa mi piace quella domanda siccome un estraneo a questo mondo un po' arroccato nelle sue vecchie idee diciamo come due mariti tutti insieme nella stessa casa pervertiti cos'è la perversione secondo te siccome è un termine usato semplicemente per non ammettere che abbiamo tutti delle pulsioni più o meno forti più o meno anche stravaganti attettabili adesso non si chiamano kink tu me l'hai insegnato forse una volta in live hai visto quanto non so un cazzo di termini guarda che mi fai cioè chat un applauso perché guardate che il gonz mi fa i compiti me li fa cioè non è che i kink cosa sono i kink dai i kink sono fondamentalmente tutto quello che può piacere a una persona a livello sessuale dalla cosa più socialmente accettabile del tipo non lo so fotopiedini visto che siamo su twitch piace tanto questa cosa fotopiedi ha le cose anche meno socialmente accettabili tipo le sculacciate oddio dai le sculacciate un po' più accettabile ma come si vede nel film occhio occhio è arrivato un ride ciao pelati mi fermo allora piccola introduzione velocissima grazie a tutti i rider grazie a pelati i fumetti andatelo a seguire mi raccomando allora state arrivando alla fine di una live stiamo comunque continuando a parlare io sono qua con Sara che parliamo di un film che si chiama copia aperta quasi spalancata che è stato al cinema e ancora in qualche sala che uscirà poi sulle piattaforme è un film che parla di poliamore lei è una delle protagoniste del film perché vive una relazione di poliamore quindi ha due mariti e vivono tutti insieme oh mio dio che scandalo abbiamo parlato di un sacco di cose di poliamore eccetera adesso stiamo parlando di un ultimo tema che mi interessava era la visione di che cos'è la perversione perché chiaramente le persone che vedono questa relazione da fuori alcune immagino un po' arroccate alla vecchia mentalità subito penseranno che è una cosa perversa una depravazione anche depravazione è una parola forte guarda che però ce l'abbiamo spesso cioè è una delle cose che arrivano spesso siete depravati appena poi tocchi e questo è successo in maniera diretta con dei parenti del nostro nucleo poliamoroso i parenti sono i più cattivi ciao il mercenario grazie i parenti sono i più cattivi sì cioè hanno detto sai per quei quattro minuti di scena di sex positive che c'è stato sai che scena parlo non facciamo spoiler però è quella se ne sono stati se ne sono andati per dicendo tutti pervertiti queste cose disgustose perché c'è ancora questa cazzo di mentalità dove se tu parli di sesso non tabù sei una zoccola se parli di kink cioè cosa ti può piacere no non si può cioè guarda che c'è tutto questo terrificante su tutto l'argomento e questo sono retaggi culturali non eravamo così nel medio e invece lo siamo adesso se c'era qualcuno mi ricordo che è fan di Barbero scusami grazie Barzo sono quasi tutte le cose ha ragione Rampion sì è veramente difficile essere scusa cosa vuol dire sono perché ho usato tutti i termini che non capisco scusa io se dobbiamo fare una live sul mio canale dove facciamo le bagli sono parole inglesi che però sono usate come inglesismi in questo caso sì nel senso una parola inglese come faccio io nelle frasi italiane quando non mi viene poi la parola italiana closet fondamentalmente vuol dire che non sei ancora apertamente dichiarato di qualcosa come c'è pieno di per esempio persone poliamorose che per motivi sociali di pressione sociale delle famiglie del lavoro eccetera non sono dichiaratamente poliamorose rispondi tu al mercenario visto che il film è anche tuo ciao mercenario allora sarà allora adesso non so dove abiti però se sei nel sud Italia ci sono ancora alcuni cinema che lo lo fanno vedere adesso magari ti lascio il link così andate a vedere quali sono ah sì mettilo se me lo dai da qualche parte io no mettilo no non puoi metterlo in chat ma ti vippo subito te lo mando a te aspetta no no aspetta che ti vippo aspetta che ti vippo no vabbè e vai ti ho anche vippata adesso scusate ma me la devo tirare non ti agitare fai mi agito non ti agitare che mi agito ora sei vippo puoi mettere ok adesso finisco la frase poi te lo copio così intanto che parli lo vado a copiare c'è fondamentalmente nelle sale più che altro al sud c'è ancora una sala a Roma che ce l'ha che credo che sia l'Adriano per il resto arriverà una volta che scema poi fuori dal dal circuito dei cinema arriverà sulla piattaforma piattaforma I Wonder che è legata al Prime però ha il suo abbonamento credo che sia 12 euro qualcosa al mese altrimenti date un attimo di tempo restate su questo canale non togliete il follow da questo canale perché il Gonze vi dirà quando esce andate a seguire anche il canale di Sara se riusciamo a fare un altro shout out sono fondamentalmente in teoria dovrebbe uscire anche su Raiplayer perché so che hanno comprato i delitti Raiplay tra l'altro è gratuita tra virgolette nel senso la paghiamo col canone però vi cucate una sola pubblicità all'inizio però vedete gratis quindi spero che vada su Raiplay così avrà maggiore visibilità che poi se va su Raiplay vuol dire che prima andrà sulla tv digitale in diretta di solito funziona così va in diretta e poi va su Raiplay quindi spero che avrà tantissima visibilità tu diventerai famosissima e di conseguenza ci sto ragionando adesso non era calcolato di conseguenza poi ti ricorderai di me esatto se no che rimango barbona come adesso lo cambierò un cazzo ti ricorderai di me lo stesso fare una pubblicità assolutamente ti dispiace basta che sia regresso cioè dobbiamo regredire invece che progredire regredisco io più di così vado all'asilo se regredisco ancora un po' però io vorrei davvero invitare tutti se volete se vi piacciono i documentari soprattutto quelli antropologici anche non di argomenti facili cercate Federica di Giacomo dovrebbe esserci dei suoi lavori anche su Raiplay c'era fino all'anno scorso dovrebbe esserci ancora ma se avete modo andatevi a vedere il lavoro che ha fatto fa dei lavori spettacolari cioè è un'antropologa di base quindi poi quando come documentarista ha quest'occhio antropologico io penso che sia veramente dei lavori spettacolosi peraltro anche altri lavori tipo il palazzo già premiati anche lì alle giornate degli autori anni fa per cui non è proprio una di primo pelo la Francine ha scelto di Giacomo come regista proprio perché è una che è già bella obituata andare su temi anche importanti no ma infatti il film non è male neanche dal punto di vista delle riprese poi chiaramente magari appunto ha degli ottimi operatori eccetera il direttore della fotografia è spettacolare due perché prima c'era Diego poi c'è stato diciamo un cambiamento un change magari lo vedi tu che hai l'occhio magari ma lì è difficile perché comunque ci sono tanti tipi di ambienti ci sono quindi è un po' difficile perché cambia tantissimo dal teatro alla casa di lei al quando riprendono voi quindi non è che sia proprio semplicissimo è più facile quando una cosa è tutta uguale ecco questo appunto poi comunque diciamo che la fotografia in questo tipo di prodotti è più incentrata sul far sì che tutto si veda bene che tutto sia non è tanto una questione artistica ecco di comunicazione poi vabbè questo è il mio punto di vista poi magari invece era c'erano altri obiettivi allora io nel frattempo ti lascio le date c'è ancora solo in Toscana apparentemente a Barga Poggi Borsi te lo metto qua nella chat no nella chat nella chat ti ho fatto vip per cosa cioè scusa scusa sono vip adesso ti è ciapa mercenario ti ho lasciato qua il link I wonder picture che è proprio la pagina dove dicono le uscite tenete d'occhio magari il sito di I wonder se vi interessa la cosa perché come si dice sicuramente pubblicheranno gli aggiornamenti vi peggio vi peggio poi tra l'altro io venderò venderò sui vari siti di vendite così venderò l'acqua che è stata usata per fare la doccia a Sara in boccettine ce l'ha solo lui lui ha solo l'ho recuperata Federica tutte le altre sono delle bagianate così ma lui c'ha quella occhio esatto bene dai c'è qualcosa che vorresti dire ma più che altro se loro hanno qualche domanda che non ho coperto poi io chiacchiero sai che sono abituata a chiacchierare tanto su queste cose per cui magari mi sono persa mi sono persa qualcosa per cui se c'è qualcosa che non sono stata chiara su qualcosa da approfondire insomma sgridate il gonz esatto anche perché no ma infatti io ti ho ti ho voluta qua apposta perché poi non è che non è un argomento su cui io posso cioè dire la mia nel senso che io l'unica mia che posso dire che per me uno è libero di fare quello che vuole mentre invece spiegarlo anche per qualcuno che magari si sente che magari questa cosa gli appartiene ma la sta reprimendo la sta che poi non deve essere per forza ricalcata sulla tua esperienza no cioè no infatti anche perché io sono quello che ingergo tanto perché so che ti piace avere tante terminologie buttate lì così sono quello che è il kitchen table cioè fondamentalmente che viviamo tutti assieme ma quello lo so fondamentalmente noi viviamo però scusa questi li usano in Inghilterra questi termini non è che si usano qua ok allora va bene è però passami che cioè tipo io io da là vengo il kink però è una roba che già in Italia si usa anche perché non so come lo tradurresti non lo so non ho un'idea è più facile è appunto perversione lo tradurresti sì però è negativo kink non ha la connessione non ha forse per quello che ha preso ha preso piede perché la gente lo usa con più piacere no ho questo kink esatto io rappresento tipo io per dire mi eccito quando ricevo delle sub è un kink ovvio vai kinkatelo provate a eccitarmi ecco dai forza uno dopo l'altro io forza dopo vi esce le tette lui no no parafilia no vabbè però ha ragione Barzo fa schifo detta così però quello è il termine clinico no c'è lo studio psicologico di questa roba parafilia c'è nel senso io ho parlato oggi ma ho parlato per Sara al massimo per Sara Daniele Defrem non parlo per nessun altro nel senso io vi porto la mia esperienza anche come spiego io le cose le spiego però negli anni settanta andava di moda questo pensiero del poliamore no nelle comunità nelle comunità di hippie sì purtroppo c'è qualcosa è nato storico anche in quella famosa comunità di Charles Manson mi sembra ecco sì preciso uguale ma sono scherzato appunto proprio per la mia teoria che è meglio non associare cose dare idee strane alla gente che poi guarda subito i miei compagni si spalla trovando una sciarpa d'inverno un mattino lol la teoria la sala deve trovare due se lo fai meno è che un drago come fa e il fatto è questo che a un certo punto adesso sto per dire una cosa bruttissima hai presente quando tu prendi tipo un cagnolino o fai un figlio un cagnolino o un figlio li devi beccare tutti te tu fai due figli più o meno della stessa età o ti prendi due cuccioli di cane li butti a giocare da soli sono cazzi tra di loro i mariti sono uguali il marito è uguale alla fine fine sono tra di loro ah ma che cosa stai giocando adesso questo ah ma aspetta che gioco con te ancora io sto per dire ah ok interessante questa cosa però in effetti io devo dire per me è molto più facile gestire adesso in tre che in due perché pensaci solo il conflitto quando sei in due rimane tra te e l'altra e l'altra persona e prima che si blocchi qualcosa vuol dire che le dinamiche sono completamente diversi in tre in tre in quattro o anche in tre o più cioè nel mio caso in tre ma anche in più i cinque sei quello che è cavolo è molto più facile cioè sì anche come dice Trixie la ripartizione del caos ma per tutto e anche per essere genitori essere genitori in due è veramente difficile essere genitori in tre è già tutta un'altra cosa tipo quando sono ai figli teenager inizia a fare ma essere genitori in tre lo fai per flexare gli orfani diciamo per flexare un po' gli orfani dici guarda cioè ti rivedi quelli io c'ho tre tu sei orfano io c'ho tre genitori un po' cattiva come cosa lo facciamo per dare traumi ai nostri figli come è stato detto è perché vogliamo traumatizzare i nostri figli che devono andare in giro a dire eh io ho tre genitori gli altri figa che culo cioè non ne hai due a controllarti magari poi uno è esperto di informatica uno sai con anche delle abilità che tipo non li puoi fottere proprio perché c'è Efrem che è esperto nelle reti per cui qualsiasi cosa esca lui sa ah perfetto Dani che è esperto su tutto il discorso siti quant'altro per cui controlla ah vabbè basta è un po' come avere la mamma maestra nella scuola in cui vai cioè una roba è finita ascolta io ti do gli ultimi istanti se ti vuoi togliere delle soddisfazioni sul mio canale perché poi devo fare il ride ti ringrazio tantissimo per essere stata qua vai di tutto quello che vuoi per averci dato per averci dato per averci dato anche spazio a un argomento così vasto che non è facile affrontare quel poco che posso fare io voglio flexare che il gonz esce le tette quando sei nel back di StreamYard e voi non le avete viste se qualcuno vuoi comprare pagando pagando ah ok io ho gli screenshot del gonz io faccio partire faccio partire mentre finiamo di chiacchierare faccio partire un ride verso Anna Manna conosci Anna Manna? non conosco ok è una streamer che si occupa di sociale quindi insomma anche temi legati al mondo LGBTQ plus ho detto giusto? si manca qualche lettera? manca ma ne mancheranno sempre vabbè forse l'anno prossimo saprò anche cosa significano allora lesbian gay ti faccio l'aspetta lgb bisexual t trans ah scusa ok vedi che già ho sbagliato intersex e il plus per tutto il resto però grazie a te a tutta la tua community siete stati spettacolari anche voi e ringrazio tutti quelli che mi hanno messo il follow spero che un po' il cinema vi piaccia così magari passate qualche momento qua ci vediamo poi chiaramente quando passo da Sara grazie veramente tanto per il contributo e basta faccio partire il ride salutiamo mentre grazie a tutti ciao 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 grazie a tutti grazie a tutti